Sudare fa dimagrire? Non sudare è sicuramente indice di un metabolismo che non sta funzionando bene. Per sudare bisogna avere energia, avere calore. Si è visto che la temperatura perfetta di un corpo dovrebbe essere 37-36,5, non meno. Se è meno significa che abbiamo problemi di tiroide, di disidratazione, metabolismo che non sta funzionando bene. Cosa produce calore nel corpo? La cellula che ha dentro dei mitocondri che producono ATP ma questa produce anche calore ovviamente perché come si distingue un vivo da un morto? Se è caldo probabilmente è vivo. Abbiamo detto prima disidratazione. Peter George nel 1963 ha detto che l'acqua moltiplica per 10 l'ATP, quindi moltiplica l'energia. Se manca acqua il metabolismo non funziona, non può produrre sufficientemente energia per arrivare ad avere sufficiente calore e bruciare grasso.